Ciao, benvenuto nel canale di Agrieuro. In questo video ti presenteremo le caratteristiche principali del Traserba Dewalt DCMW-SP156N-XJ. Ti guideremo attraverso il montaggio, illustrandoti come assemblarlo facilmente, in autonomia quando lo riceverai a casa. Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che Agrieuro è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. Il Traserba Dewalt DCMW-SP156N-XJ si distingue come una soluzione adatta per coloro che cercano efficienza e potenza nella cura del proprio giardino. Con il suo motore Brushless XR18VX2, questo modello sfrutta due batterie, non incluse, per garantire una potenza totale di 36 Volt, assicurando prestazioni ottimali e una maggiore durata nel tempo grazie alla tecnologia avanzata. Indirizzato agli appassionati di giardinaggio domestico che ricercano affidabilità e praticità, questo Raserba si adatta alle varie condizioni del terreno con una capacità di taglio di 53 centimetri, perfetta per giardini di dimensioni medio-grandi. La sua tecnologia AutoSensing regola automaticamente la velocità di taglio in base alla densità dell'erba, ottimizzando l'efficienza e la durata della batteria, mentre la trazione se muovente riduce significativamente lo sforzo durante l'utilizzo, assicurando un taglio uniforme e preciso. Inoltre, con la trasmissione diretta, la potenza viene trasmessa in modo efficiente, migliorando le prestazioni complessive e riducendo il rischio di intasamenti. Ed ora, ecco la guida di montaggio del prodotto. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Visita il sito AgriEuro e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.